Piazzale della protezione civile di Germaneto, letti e materassi divorati dalle fiamme, pochi dubbi che l'incendio sia doloso. Ma chi e perché ha voluto distruggere questo materiale pronto a partire per le zone terremutate del centro Italia qualora ce ne fosse stato bisogno? Le telecamere del sistema di videosorveglianza potrebbero fornire elementi utili alle indagini che sono condotte dalla Polizia di Stato. Sono stati alcuni operatori ad accorgersi delle fiamme e a chiamare i vigili del fuoco. Parla di atto inqualificabile, responsabile della protezione civile calabresa e Carlo Tanzi. Ho avviato, queste ancora le sue parole, un cambiamento radicale della protezione civile prima al centro di interessi economici pazzeschi che abbiamo bloccato, presentando quattro espossi su distrazioni di fondi e ho subito minacce. Questo episodio è uno stimolo ad andare avanti. Da Vibo Valencia per la C News 24